cari amici di motorsport.com ben ritrovati continua la nostra serie di appuntamenti con i protagonisti del motorsport e oggi in particolare parliamo di un grande della ducati ma più in generale della superbike che ha avuto anche fortuna in moto gp e stiamo parlando ovviamente di troy baylis uno dei piloti più amati degli ultimi vent'anni sicuramente per quanto riguarda la ducati ma mi sento di dire forse anche nel mondo delle due ruote in generale e abbiamo l'estremo piacere di parlarne con l'ingegnere ernesto marinelli ernesto grazie per essere con noi grazie a voi buongiorno a tutti senti ernesto secondo me a mio modesto parere troia rappresentato anzi è stata un'icona ed è tutt'oggi un'icona della ducati e tu nel corso della tua carriera hai militato in ducati con ruoli molto molto importanti per circa 17 anni mi sbaglio alla fine 22 anni infatti in ducati ecco quindi ancora di più e hai avuto modo di toccare con mano passami il termine l'epopea di troi in ducati ecco la prima cosa che mi viene in mente è quando vi siete conosciuti qual è stato come come è stato il vostro primo approccio allora guarda io ti posso dire che ho conosciuto troi quando il responsabile del del programma americano ed era il 2000 lui allora veniva dal dall'avventura nel campionato bsb e partimmo con i test invernali per fare la stagione nel inama e poi ovviamente quell'anno lì diciamo c'è stato il il disastro dell'infortunio di fogarty e poi quindi troi è stato poi dopo trasferito al mondiale e quindi ti posso dire che l'ho conosciuto ai test invernali a a daitona che tra l'altro una pista abbastanza particolare e e la cosa che già allora era abbastanza diciamo evidente è che è andato in pista già dopo i primi giri alla nascar 4 prima delle più impegnative lui passava tranquillamente tutto gas che di solito ho fatto fare i piloti quando ve li vedevo quando erano in qualifica quindi già lì si capiva abbastanza il calibro che aveva e e da lì poi diciamo a metà anno è stato riportato nel c'è stato portato nel nel mondiale e poi dopo ciò rilavorato nel 2006 quando poi abbiamo avuto il mondiale senti senti ernesto ma ci puoi raccontare come è nata l'idea di portare troi al posto di carl fogarty sappiamo appunto come dicevi bene tu se for carl si infortunò però immagino che la lista di piloti fosse ben più lunga di un paio di nomi qual è stata la scintilla che vi ha fatto prendere troi no beh certo sai quando succedono questi tipo di inconvenienti specialmente poi allora insomma sostituire un calibro come fogarty non è che era proprio una cosa da da niente che ovviamente a stagione iniziata ovviamente anche come scelte la cosa che poi che vai a fare subito è vedere nel parco piloti e che hai nelle tue varie attività quale può essere quello più idoneo e poi quell'anno lì c'erano state un po di prove anche con altri piloti però a parte la prima gara che gli fecero fare e se non mi ricordo male era sugo e dove alla fine furono due dnf perché comunque era stata una gara un po particolare un po burrascosa e dopo invece diciamo con la con l'altra gara a monza dove fece il passaggio mitico triplo in ingresso a prima variante diciamo che già quello accese diciamo tutti gli amori che ancora dovevano dovevano sbocciare a parte che troi una persona talmente fantastica che posso dire è impossibile non volergli bene lavorandoci assieme poi ovviamente come tutti i piloti esigente ha tutta una serie di peculiarità però sicuramente è un pilota che da sempre il 150 per cento e quindi lavorare con lui non puoi far altro che seguirlo e dare tutto e di più quello che hai da dare ecco hai parlato del del leggendario sorpasso di monza ti volevo chiedere che impressione vi ha fatto dal box perché secondo me il tifoso sai magari coinvolto in un certo in una certa maniera ma da ingegnere vedere una cosa del genere che impatto è c'è una cosa immagino straordinaria ma sicuramente ti attacchi e tu ti dici come cacchio farà fa quella curva lì e poi ce l'ha fatta e quindi però ti dico fortunatamente ti dico i piloti sono veramente una una specie a sé e effettivamente nella mia carriera ho avuto la fortuna di lavorare con diversi e effettivamente e di fare delle cose che un po' sembrano andare al di là del possibile a volte no ti dico sia dal punto di vista della guida che dal punto di vista fisico che sotto certi sotto tanti aspetti ecco abbiamo visto appunto troi entrare nel mondo ducati diciamo concedimi il termine a livello mondiale quindi il grande pubblico ha conosciuto troi poco dopo l'infortunio di carl ma lui poi l'anno dopo arriva al mondiale cioè come è riuscito a cambiare categoria comunque in poco tempo e ad essere subito il punto di riferimento ma ti dico il talento ovviamente uno ci nasce poi secondo me nella nella sua carriera tra l'altro lui ha iniziato abbastanza tardi però effettivamente il talento è una cosa che poi dopo viene fuori abbastanza velocemente infatti ti dico al primo testa e quando l'ho visto su un circuito che non aveva mai visto prima poi Daytona è una pista veramente molto particolare con del creatività completamente diverse anche dai circuiti normali che uno può andare a fare perché ai banking e quindi c'è ci sono tutta una serie di stili e di accortezze che devi avere dove effettivamente vedono andare così forte immediatamente senza mai averla vista la la pista prima è una cosa abbastanza particolare e quindi i numeri li vedi li vedi subito poi lui ha questa questa incredibile capacità di cercare di arrivare sempre e lavorare sempre vicino al limite cioè su molti piloti dove effettivamente quando sei in testo vi dicendo comunque vari un attimino il livello che vai invece lui riesce sempre dal cento per cento e effettivamente questo anche nello sviluppo e nel lavoro che poi si fa durante il weekend è molto importante infatti anche se lui ha uno stile molto particolare perché a differenza per dire di altri piloti che sulla moto sono con sentimenti statici cioè nel senso che non si muovono tanto al di fuori di quello che ti richiede la moto troia un pilota che col fisico col corpo compensa veramente un sacco e quindi gli consentiva di utilizzare dei setup molto estremi sia a livello di stabilità di vancorsa e vi dicendo e questo gli consentiva di avere uno stile magari non il più pulito del mondo però particolarmente efficiente e quindi infatti poi i suoi setup generalmente erano abbastanza personali nel senso che se ci mettevi sopra un altro pilota che invece aveva una guida molto pulita e scendeva giù con due occhi così è un cavallo bizzarito sta moto e invece con lui riuscivamo a lavorare molto bene anche perché un cambiamento rispetto a un altro lui lo tarava sempre sul tempo sul giro e questo ti consente di non prendere a pagli perché ovviamente quando uno ha un filo di margine basta che un cambiamento diciamo a livello di feeling gli piaccia un filino di più spinge un po' di più e quindi poi alla fine vedi una differenza sul giro che è un po' falsata dalla preferenza rispetto all'effettiva potenzialità del cambiamento stesso e poi va molto a preferenza perché comunque effettivamente andare forte in moto è sempre questione di fiducia quindi indipendentemente dalla parte tecnica che ci può essere il pilota va tanto più forte quanto più è convinto che la moto possa fare determinate cose e lui quindi mi è capitato diverse volte dove per dire entrava dentro e mi diceva cacchio me sta modifica qua fa schifo però sono venuto giù tre decimi e quindi vuol dire che va bene e quindi me la faccio piacere oppure al contrario capito dove entravi e diceva cacchio la moto va meglio però giro più piano quindi vuol dire che comunque qualcosa non va e ti dico e questo effettivamente c'è sempre nel lavoro che abbiamo fatto insieme ci ha sempre consentito bene o male di arrivare sempre a soluzioni che poi dopo avevi sempre il riscontro vero e questo da parte di un tecnico è veramente un grosso plus e queste cose che mi hai raccontato non so mi è mi è acceso una lampadina è possibile comparare due mondi diversi troi a un altro australiano che con la ducati è andato bene che si stoner bene a livello di stili di guida sicuramente un po' di diversità ce li hanno poi io con case non ho mai lavorato quindi effettivamente non posso dirti se non per sentire di aver visto qualche dato sicuramente a livello di come posso dire carattere a livello di diciamo cattiveria nel voler spingere al limite e sicuramente è una cosa che avevano che avevano in comune poi un po' anche la cultura australiana effettivamente porta anche ad avere questo tipo di di aggressività poi a livello di stile e di tecnica come ti dico non avendo lavorato direttamente con con case non posso farti un paragone concorrente torniamo al 2001 secondo te qual è stato anzi qual è stato per ducati il momento in cui avete capito che abbiamo possiamo lottare per il titolo e ce la giochiamo fino in fondo allora lì ti dico lì era l'anno in cui poi io il 2001 e il 2002 è stato l'anno che ho fatto con ben bostrom nel team lm che ti imposta dove c'era troi poi contro i santorati nel 2006 comunque ti dico lì ovviamente il campionato non lo chiudi mai finché non l'hai vinto cioè nel senso che in tutti i campionati che ho fatto mi sembra di averne viste abbastanza da poter dire che il proverbio mai di regatto finché non c'è nel sacco è proprio assolutamente azzeccato soprattutto nel 2002 perché comunque effettivamente ci sono talmente tanti imprevisti e cose che possono andare dritte o storte che effettivamente finché non ce l'hai matematicamente in tasca è sempre difficile però questo può essere anche è un punto di forza è un punto di forza nel senso che se tu approcci a ogni gara capito con una una filosofia costante ovviamente questo ti consente di eliminare parte della pressione che hai che ha ovviamente il rischio che ovviamente se sei davanti con x punti non è che ti puoi prendere ovviamente più di tanti rischi però diciamo a parte queste banalità diciamo ogni gara deve essere affrontata poi sempre nello stesso modo nel senso che alla fine devi fare il miglior risultato possibile devi arrivare al sabato sera avendo trovato il miglior setup disponibile e aver scelto la gomma più azzeccata per la gara e quindi poi con questa filosofia vai a lavorare poi per la singola gara ovviamente ti dico quando uno è davanti con un discreto vantaggio sicuramente un minimo di margine se lo si tiene quindi ecco che la gara diciamo cruciale dove dove devi cioè dove diciamo rischi di portartelo a casa allora ecco che lì sei lì che un pochino e capita capito che proprio in quella gara lì invece fai una una perché ovviamente ehm se esci diciamo dalla tua comfort zone di guida capito e quello vuol dire anche andare più piano di quello che potresti andare cioè io ho visto diversa diverse volte fare delle cadute veramente banali ehm che sembrano quasi inspiegabili se puoi però dovuto al fatto che ehm rispetto al carico che uno dà normalmente ehm ne dà un pochettino di meno e alla fine la moto ti scappa perché non hai dato il carico a cui hai abituato quindi ehm non bisogna mai abbassare la guardia cosa che non è facile perché ovviamente quando lotti per portarti a casa una cosa insomma come un mondiale sicuramente un po' di piombo nelle spalle ce l'hai infatti poi è stata una cosa anche eh dell'anno 2006 quando poi abbiamo vinto il mondiale assieme che poi alla fine è stato un anno il più bello della mia vita posso dire a livello di di gare perché poi oltre il mondiale che abbiamo vinto in Superbike abbiamo fatto quella gara eh spot in modo GP che effettivamente insomma alla fine quando siamo arrivati alla fine e l'abbiamo portata a casa eh diciamo che è stato ragione di festeggiamenti poi perché è stato veramente il coronamento di una di una stagione veramente incredibile comunque partire da Superbike e arrivare a fare una gara singola di MotoGP con una moto diversa gomme diverse eh non è banale dire che arrivi alla fine alla fine della gara davanti a tutti quindi direi che anzi non è mai successo io non so ancora quando potrà risuccedere ma sono completamente d'accordo siamo rimasti tutti stupiti non tanto dal talento di Troy perché quello personalmente è sempre stato conclamato quanto perché tutti nell'immaginario collettivo c'erano le tre stagioni fatte eh dopo il titolo Superbike che passò assieme a Loris Capirossi anzi si diventò eh esatto compagno in squadra di Loris Capirossi e peraltro il primo anno molto bene perché riusciva a portare a casa anche dei podi importanti fece un po' più fatica al secondo anno poi il terzo si infortunò e non era comunque in Ducati eh ecco secondo te avrebbe potuto fare di più Troy in MotoGP al netto di una Ducati che non era appunto la la moto che poi abbiamo visto a fine 2006 inizio 2007 e negli anni successivi ma ti dico il secondo me il potenziale è sottolto la gara di di Valencia se vuoi uno spot però non è che uno entra in MotoGP fa una gara così va a piombo e vince senza niente vuol dire che quelle potenziali ti ce l'hai poi ovviamente il campionato MotoGP è sicuramente un campionato difficile dove ci sono anche allora dove c'erano comunque delle forze in gioco molto particolari quindi un conto fare una gara effettivamente alla fine dove tra virgolette non è nulla da perdere se vuoi invece puoi fare un campionato interno però ti posso dire che effettivamente poi le gare sono gare le moto sono moto e quindi diciamo a parte il livello che uno può discriminare tra un campionato e l'altro ovvi dicendo però anche in quella sede lì alla fine è stato un anno dove alla fine si è confermato che effettivamente poi il top da una parte poteva fare bene anche dall'altra quindi ti dico con quella configurazione lì secondo me troverai potuto tranquillamente fare un ottimo campionato anche farlo più intero poi ovviamente ti dico per ogni pilota per fare bene sai hai una un cocktail che deve funzionare nel senso che ogni pilota per performare e per performare meglio degli altri ovviamente deve avere una confidenza sul pacchetto moto squadra gomme vi dicendo che deve essere al top per poterlo fare performare al meglio basta solo che manchi un tassello di queste cose qui e ovviamente la confidenza cala e quando cala la confidenza cala la prestazione certo ti volevo chiedere senti Ernesto ma è vero che parlando della gara spot vinta da Troy in MotoGP a Valencia è vero che chiese nello specifico la tua presenza quella di Tardozzi e quella di Ciabatti ma quello sì perché ovviamente facevamo parte del suo gruppo no quindi infatti ti dico mi ricordo benissimo perché era una cosa che era nata tipo il fine settimana per partire il lunedì dopo e insomma è stata una roba un po' capito da poter gestire infatti diciamo non ti nascondo che anche personalmente un po' di tensione ce l'avevamo però poi fatta la prima sessione di prove effettivamente cioè ti dico mi ricordo che quando siamo partiti gli ho detto ok cosa vuoi fare vuoi partire con un diciamo setup di moto come la stanno usando i MoGP oppure siccome abbiamo poco tempo di funizione vuoi che cerco di farti un veicolo il più simile possibile alla tua moto superbike anche se la moto è diversa il motore è diverso il motore è diverso il motore è diverso però diciamo che abbia delle caratteristiche più vicine a quelle e quindi mi fa e quindi insieme mi dici guarda avevamo due moto allora era ancora consentito quindi mettiamo due moto una in una configurazione e una con l'altra faccio i primi giri su entrambi quella che mi dà il miglior feeling lavoriamo su quella casualmente è capitato che era quella più simile a quella che utilizzava in superbike ma è anche naturale cioè nel senso che un pilota si abitua al suo diciamo stile al suo veicolo quindi indipendentemente che tecnicamente possa andare meglio o peggio comunque siccome è molto confidenza che ti fa fare la prestazione quella che ti dà più confidenza all'inizio è quella sui lavori e quindi da quello poi siamo partiti e onestamente devo dire che poi alla fine è risultato quasi un weekend normale di lavoro che poi ti dico si è coronata è stata sicuramente la gara più lunga della mia vita nel senso che ho finito cioè io sono rimasto sulla sella a guardare lo schermo però si fa che avessi fatto una maratona di 40 km finita la gara perché comunque finché non è passata sul traguardo non ci credevo ancora e dopo che era passato domandando se effettivamente c'eravamo riuscito davvero e e questo ti dico effettivamente è stato un weekend veramente veramente speciale quando avete capito che avrebbe potuto farcela non dico vincere però comunque giocarsela ti dico quando siamo arrivati a sabato che comunque nelle qualifiche comunque era andato molto bene ed eravamo mi sembra secondi dietro di poco effettivamente lì ho detto però sicuramente cioè dei primi 5 siamo stati tranquillamente però poi che venisse fuori la gara che parte in testa e rimane lì fino alla fine effettivamente anche a sabato se qualcuno mi avesse detto che poteva essere possibile ci voglio vedere nel senso che ancora sicuro ecco guarda abbiamo parlato anzi tu prima mi hai detto una cosa molto molto bella che il 2006 lavorativamente parlando è stato l'anno più bella la stagione più bella della tua vita ti chiedo perché e se hai qualche momento che hai nella memoria a parte questa bellissima vittoria di Valencia ma ti dico il 2006 è stato veramente un anno molto speciale e ti dico in parte perché comunque con Troy eravamo sempre stati buoni amici fin dal 2000 quindi comunque rilavorare con lui dal 2006 era già una cosa che mi fece a piacere fin dall'inizio e poi effettivamente ci siamo trovati molto bene come poi eravamo già nel 2000 e quindi anche come squadra diciamo che effettivamente lo chiamavamo il dream team ma effettivamente era molto vicino a essere veramente il dream team come insieme di persone perché eravamo veramente molto affiatati come come elettronico avevo l'Alessandra Balducci che adesso è ancora in Ducati come per la parte elettronica della superbike perché era veramente molto brava c'era il Moro che non so se lo conosci sicuro comunque è stato capo meccanico per tanti anni e quindi diciamo avevamo tutta una squadra che era già diciamo consolidata da un po' di anni e quindi ci capivamo solo con lo sguardo senza neanche dover parlare più di tanto come ti dicevo con Troy tecnicamente ci siamo trovati sempre molto bene fin dall'inizio e quindi è stata un po' una sintonia che abbiamo avuto e poi diciamo coronata da effettivamente una stagione veramente veramente fantastica poi con i soliti intoppi come ci sono però ti dico abbiamo avuto determinate cose che ti dico una volta mi sembra che eravamo a Silverstone erano le Q1 e alla fine partiamo con la gomma usata fa due giri e scivola e lascia la moto attaccata al muretto quindi corre dentro a prendere l'altra moto gomme nuove riparte va fuori fall out e scivola un'altra volta quindi ripianta anche la seconda torna dentro di cose e ti abbiamo finito non ce n'è più ti aspetta che si riportino alla prima moto che era abbastanza devastata e quindi ovviamente come la voltò i meccanici su questo turno l'hanno supportata come un pelzino a rimettere a posto poi intanto ci hanno portato la seconda ed era messa un po' meno della prima quindi abbiamo detto molla la seconda sistema la prima mancavano pochi minuti alla fine del turno e abbiamo detto ok sulle qualifiche eravamo tipo sottesimi o diciottesimi una cosa di genere in fondo la cassifra e ho detto vabbè montialli come la qualifica fuori ho detto troppo attento perché c'hai un crono da fare quindi hai fatto la pole cioè quindi cosa gli dici ah niente ti viene dentro la box e gli dici grazie eh sì capito e poi era così capito cioè è una cosa effettivamente incredibile aveva una capacità effettivamente di riuscire a dare come è stato successivamente questo mi sembra il 2008 doveva a Misano è andato fuori ha fatto il giro veloce poi non mi ricordo chi aveva fatto il giro ancora più veloce lui è diventato nella prossima box ma ha fatto segno così gli ho detto secondo si è abbassato la visita è tornato fuori e ha abbassato altri 4 lezini capito quindi effettivamente vedi fare delle cose leggere ecco cosa che effettivamente deve essere incredibile anche per voi oltre per il pubblico che appunto queste cose meravigliose assolutamente allora io ho sempre sentito parlare di Troy ero molto piccolo e quindi non facevo ancora questo lavoro però ho sempre sentito parlare molto bene di Troy a livello umano quindi ok grande campione in moto ma mi hanno parlato benissimo a livello umano di Troy io ho aneddoti che lo riguardano e mi riguardano ma sarebbe molto carino che tu parlassi di Troy a livello umano secondo me tu hai tante cose da poterci raccontare ti dico sicuramente a livello umano lui è fantastico come ti dicevo prima è impossibile non volergli bene nel senso che tuttora adesso che comunque sta facendo un cambiato australiano con suo figlio Ollie sulle 600 lo sento molto spesso e quindi ti dico lui è veramente una persona estremamente genuina e generosa nel nel comunque darsi ad altre persone cioè nel senso che comunque pur ovviamente avendo il carattere da pilota campione che quindi sono sempre generalmente caratteri molto forti e incisivi comunque ha questa capito capacità di trasportare le persone che gli sono intorno e che quindi ti capito dà onore riuscire effettivamente ad avere un cioè infatti mi sembro estremamente fortunato di aver avuto l'occasione capito di lavorare stengere questa amicizia capito con con una persona come Troy che è veramente il pilota più più incredibile cui aveva lavorato mi dai una top 3 dei tuoi piloti preferiti con cui hai lavorato che invece ti piacciono ma allora è difficile nel senso che non numerarmi lì cioè dammene tre no 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 è difficile perché ti dico fortunatamente e devo dire fortunatamente ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i piloti con cui ho lavorato e ognuno di loro effettivamente mi ha lasciato sempre un un bel pacchetto tra comunque affetto e diciamo formazione professionale che tu ovviamente con ogni pilota con cui lavori porti a casa no ognuno per cose anche diverse capito ti dico sicuramente il pilota che specialmente poi all'inizio della mia carriera mi ha aiutato di più a costruire diciamo perché come come tecnico di pista la parte tra virgolette ingegneristica o tecnica è quella più più semplice nel senso che l'hai studiata se sai di cosa stai parlando bene o male hai un'idea di come di come intervenire quello che nessuno ti insegna e che devi costruirtelo è come tradurre le modifiche tecniche con il feeling che queste modifiche tecniche possono dare al pilota e quindi poi fare il libro di traduzione che in funzione del problema che lui ti dice devi capire quale soluzione tecnica può funzionare e può dargli quella fiducia in più che lui gli serve per andare più forte e questa è una cosa molto difficile e ti dico proprio nel 2000 quando ho detto che avevo cominciato con Troy poi col fatto che lui l'avevano poi richiamato a fare il mondiale finì la stagione con Kuczynski e devo dire che effettivamente come tecnicità di pilota è stato effettivamente il pilota più preciso con cui abbia mai lavorato cioè lui aveva una magnificità nel dettaglio di ogni piccola modifica e una capacità di sentire effettivamente cosa ogni piccola modifica faceva sulla moto ed era talmente bravo a spiegartelo che cosa faceva quella modifica lì mentre lui guidava che effettivamente per me quella è stata una formazione incredibile e veramente molto molto preziosa cioè ti dico Kuczynski era uno che se tu gli chiudevi due clicchi il rebound della forcella e non gli dicevi niente dalla sera prima alla mattina lui entrava al giro di auto tornava dentro e ti diceva rimetti il rebound come era ieri sera capito e delle volte ti dico un test perché ovviamente alcune volte gli dici ma dai non ci credo manco morto l'hai visto e lui ti diceva guarda non mi dire niente tu cambia io vado dentro e ti dico se hai cambiato e ci prendeva magari non te lo prendeva al clic capito lo chiudevi di 4 lui ti diceva di 3 ma ci prendeva quindi alla fine ti dico su quello è stato veramente veramente incredibile poi comunque sempre nella mia nella mia avventura americana avevo lavorato anche con Gobert e con Ben e poi con Vostrom ho rilavorato nel 2001 e 2002 e anche con lui è stato veramente veramente un'avventura molto molto bella nel senso che comunque nel 2001 avevamo fatto degli ottimi risultati poi nel 2002 effettivamente c'era stata questa grosso passo in avanti di mission rispetto a Dunlop e quindi il campionato è rimasto un attimino un po' in sordina perché c'erano i tre mission e poi dopo c'erano i Dark arrivavano dopo e questo ovviamente nel giochino ovviamente delle varie stagioni succede poi dopo ovviamente un'altra bellissima stagione che è stato poi il mio primo mondiale è stato quello del 2003 con Neil Hodgson e effettivamente è stata forse la stagione tra virgolette più perfetta nel senso che abbiamo veramente avuto uno stradominio incredibile Neil era anche lui un pilota molto preciso con uno stile di guida completamente diverso da quello che potrebbe avere Troy anzi praticamente opposto perché Neil aveva una guida veramente super pulita e quindi per dire a livello di avancorsi erano completamente due argini completamente diversi però anche lui come lavora era molto metodico era molto preciso sui feedback e quindi da quello diciamo è venuto fuori poi una una stagione perfetta poi 2004-2005 ho avuto Regis che anche lui è un buon cavallo pazzo quindi diciamo che mi ha dato un po' di 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 grattacapi e poi dopo abbiamo riniziato con Troy come abbiamo parlato prima nel 2006 è stato molto interessante anche l'anno con Nori con Aga effettivamente è l'unico pilota giapponese con cui ho lavorato e a parte essere una persona fantastica però effettivamente poi hai anche questa differenza di mentalità che devi interpretare perché effettivamente rispetto anche a tra virgolette noi occidentali effettivamente ha una forma mentis leggermente diversa quindi con lui effettivamente ho dovuto affinare tutta una serie di cose per cercare di non far più di tanti casili perché se no effettivamente lui aveva molto un approccio di comunque cambiamo però voglio dire anche se aveva vinto la gara con 10 secondi per lui avrebbe stravolto la moto anche per gara 2 capito? ma perché? e quindi questo è un po' diciamo che ti dico da quel punto di vista lì ogni pilota ti lascia ti lascia sempre qualcosa poi effettivamente poi dal 2009 in poi scusa dal 2010 in poi ho cambiato poi il ruolo quindi non ero più diciamo ingegnere di pista quindi direttamente a contatto col pilota sono passato più dal lato di gestione del progetto del team e quindi è stato un ruolo diverso perché ovviamente pur avendo il contatto col pilota però diciamo il legame stretto di sangue devi avercelo con il capo tecnico che deve essere poi l'unica persona che hai come riferimento perché un'altra cosa fondamentale per i piloti è cioè non devono avere dubbi quindi se ti trovi tre persone che dicono tre cose diverse e già te non sai più quale è giusta no? quindi devi sempre avere una ci dico delle volte è proprio importante anzi comunque è sempre fondamentale anche il lato psicologico rispito cioè devi potergli dire no guarda il perfetto del momento vai forte vai dentro vai tranquillo e lui deve andare dentro tranquillo senza nessun pensiero capito? perché se invece ti leggi così e di fianco c'è uno che fa allora già hai perso in partenza eh sì hai perso in partenza ultima domanda e ti volevo chiedere prima ci hai raccontato degli aneddoti bellissimi legati a troi pilota ti chiede quelle che si possono dire degli aneddoti a livello umano anche magari i box però che non siano legati strettamente alla moto alla supra bike o alla moto di più ma allora a parte quelli che non si possono raccontare perché ovviamente sicuramente ti dico il il post diciamo prove dove effettivamente o anche il post la gara diciamo della domenica è quello anche solo quando comunque stacchi tutto che prendi e ti vai a fare la tua capito cena tra tra team o anche solo l'hospitality dove comunque hai calato tutta la 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 tensione sono sempre piacere sono sempre diciamo situazioni molto piacevoli specialmente quando la gara va bene perché quando invece la gara va male allora magari capito siamo un pochettino più più abbacchiati e e poi ti dico una cosa che è stata veramente simpatica è data quando poi ha diciamo si è ritirato nel 2008 quindi anche lì abbiamo finito effettivamente era difficile finire peggio nel senso che poi nel 2008 abbiamo vinto il mondiale poi l'ultima gara ha fatto la pole position ha vinto due le gare con distacco e poi si è ritirato quindi anche quello lì non ce ne sono tanti capito che che possono fare così e forse ti dico ancora più sorprendente è stato comunque un test che abbiamo fatto al Mugello due anni dopo che tra l'altro pioveva quindi siamo arrivati in circuito che pioveva e comunque lui l'ha sempre un po' sofferta quella di aver smesso dal 2008 perché comunque non è facile specialmente quando sei ancora all'apice e quindi ha passato sicuramente a diverse fasi dove capito cosa faccio faccio un test e vi dicendo per tenere l'adrenatina sempre alta e facendo questo test al Mugello che era un test diciamo chiamiamolo di prova ma ovviamente per avere un altro parere molto nuovo vi dicendo con lui che aveva tanta esperienza e quindi avevo a Mugello e mi ha detto guarda domattina piove e quindi se vuoi cominciamo anche più tardi con la testata alle 9 aspettiamo un attimo di vedere cosa fa il metodo e poi magari partiamo alle 10 e mezza qualcosa del genere alle 8 meno un quarto era dentro al box vestito che ci ha fatto le paste per fare colazione però è già vestito e quindi ha aperto la pista andiamo chiusa la pista alle 9 sulle 8 alle 50 quindi spedano un attimo è partito il giorno piove tutto il giorno e lui ha fatto il nostro record diciamo superbike al Mugello col bagnato dopo un bel po' di tempo che non andava in moto e il giorno dopo fortunatamente è asciugato nel tardo pomeriggio e ha quasi fatto il match del nostro miglior tempo e quindi questo si fa capire il calibro il talento che può avere una persona capito su un veicolo effettivamente anche quella è una cosa che secondo me l'ho visto fare a lui e non so se qualsiasi altro pilota in modo potrebbe fare un risultato del genere e lui ancora così cioè nel senso che comunque se guida l'abiposto capito o fa qualche giro col superbike in Australia capito ancora fuori cioè proprio è una cosa che non risente dell'età ed ha esattamente lo stesso approccio e questo effettivamente è una peculiarità incredibile incredibile sei stato preziosissimo grazie del tuo tempo grazie per averci raccontato così bene così da vicino Troy Bailey sono dei più grandi piloti che ha avuto la Ducati ma come dicevo prima che ha avuto la Superbike e comunque in parte anche la MotoGP cari amici in motosport ringraziamo appunto l'ingegner Marinelli noi vi diamo l'appuntamento al prossimo video cliccate mi piace se vi è piaciuto appunto questo video iscrivetevi al nostro canale YouTube e fateci sapere cosa ne pensate grazie mille e alla prossima grazie a tutti ciao